Una clamorosa disattenzione difensiva condanna il città di Messina del presidente Maurizio Loretta alla sconfitta esterna contro il Roccella di Domenico Giampà. A decidere il match, la rete è realizzata da Catalano al 38esimo del primo tempo, in una gara comunque all'insegna dell'equilibrio, ma che ha visto i messinesi uscire battuti dopo il pareggio interno contro il Troina di domenica scorsa. Società in silenzio stampa dopo l'ennesimo passo falso, pesano evidenti lacune di un organico troppo acerbo per la Serie D, ed è necessario un cambio di rotta immediato per poter ambire ad una salvezza che oggi, purtroppo, appare decisamente difficile da raggiungere. Il percorso in salita, una salita estremamente ripida, ma è pur vero che siamo solo all'inizio di questa lunghissima stagione, dove tutto può ancora succedere. Domenica prossima, ossiga trasferta per i messinesi, che affronteranno la sanca d'aldese del tecnico Giuseppe Mascara, formazione reduce da due risultati utili consecutivi.